Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento che è sempre con un sorriso, perché stare qui insieme a Marco Baccarelli ti fa venire proprio voglia di sorridere non solo, anche di acquistare una vettura. Ciao Marco! Per fortuna Rosi, ciao Rosi, tutto bene, ciao a tutti! Oggi voglio presentarvi l'ultima rimasta Cherokee 3.250 CV che non paga il Superbollo. Vettura da 85.000 euro nuova, partiamo con 49.4 più il passaggio, è un'occasione stupenda. Ma incredibile, è un prezzo straordinario. Ma l'ecoincentivo non era di 1.500 euro? Sì. Qua 30.000 euro in meno. Più ecoincentivi di così dicevamo e pensate che è un chilometri zero, quindi è una vettura che non ha mai circolato e che spettacolo. E questa è l'estate, 27.500 euro più il passaggio, è un Ferrarino, è un Abarth, originale, 124 Spider con soli di 17.700 chilometri, anno 2018. Perfetto, praticamente nuova. Ypsilon, qui ne vedete GPL, non GPL, venduta, insomma, ne hai tantissime. Queste sono solo tre, usciamo a fare un giro sul piazzale e ce ne hanno altre 20. Ah, perfetto, quindi avete una scelta che è fantastica. GPL, 1.200 benzina, vendute ovviamente perché se no non si può andare avanti, vetture da 10.500, 10.900 più il passaggio, diversi colori, ideale per il neopatentato, visto che è una ragazza per femminucce, soprattutto è un pubblico di ragazze, è l'ideale anche per il neopatentato. Perfetto, naturalmente tutti i colori, tutti gli allestimenti e tutte le motorizzazioni. E invece per chi vuole qualcosa di un pochino più grande? Secondo me questa è un'occasione veramente ottima, 55-56.000 chilometri del 2017, è un'onda CR-V diesel a soli 16.500 euro più il passaggio. Secondo me chi vuole comprarsi una macchina senza spendere tantissimi soldi, trova un SUV vero e proprio. Ultima Y bianca, 1.200, ideale per il neopatentato e tutto, una vettura molto richiesta, bianca, per la Y, che siamo andati a prenderla nella nostra concessionaria di Chiari. Ma ecco Simone, il nostro collega di Chiari. Ciao Marco, ciao Rosi, ciao a tutti. Volevo ricordarvi della concessionaria di Chiari, siamo sempre aperti. Volevo ricordarvi anche che l'ultima domenica del mese rimaniamo aperti, vi aspetto, abbiamo una vasta gamma, come ricordava Marco, di tutti i modelli del gruppo FCA, come nuovo Alfa Romeo e dopo aziendali o chilometro zero di Jeep, Fiat e Lancia. Vi accaduti del lavoro, vero? Chiari, vi accaduti del lavoro, due. Vi aspetto numerosi come al solito. Marco, sempre bianco ma cambiamo marchio. Questa è una buona occasione, è una Renault Cajar del 2016, con soli 62.500 km, prezzo secondo me ottimo, a 16,9 più il passaggio. Una vettura SUV, quando, ripeto, andare in montagna, fare le sue vacanze, la famiglia può trascorrere tranquillamente le ore di pace, questa qua è una vettura che consiglio. Ovviamente, anno di garanzia, tagliando prima di darla, disinfestazione Covid, vettura pronta a tutto. Marco, prima di farti presentare questo vero gioiello, visto che è Alfa Romeo, ricordiamo che voi avete anche l'officina di assistenza. Come no, abbiamo un'officina molto, molto, molto importante, conosciuta anche nella zona, clienti con recensioni veramente ottime, perché noi quando arriva il cliente lo accogliamo bene, facciamo dei lavori giusti, diamo macchine di cortesia, possiamo affittare delle macchine, anche in prova, per far capire al cliente cos'è oggi un Alfa Romeo, che oggi veramente è un Alfa Romeo, è una macchina da comprare, una macchina che ricorda il passato con il futuro. Questo marchio qua non è una cosa banale, è il marchio Quadrifoglio. Questa è una Giulia, io la chiamo Giulia Motore Ferrari, ok, perché deriva da lì il motore, 510 cavalli, 247 chilometri, non 247 mila, attenzione, 247 chilometri, una macchina che costerebbe su 89-90 mila euro, a 56 mila, 900 euro più il passaggio, la vendiamo. È incredibile, la vettura e il prezzo. Marco, parlaci di queste 500i. Sono tre gioielli, allora questa è la 1350 cavalli cambio automatico, la vettura con 11 mila chilometri, che vogliono veramente tutti, a 19 mila e 500 euro. Abbiamo la 13500X Urban, 15 e 9 più il passaggio, e abbiamo la 500X rossa, che piace tantissimo, 1620 cavalli con 32 mila e 200 chilometri, a soli 16 mila e 500 euro più il passaggio. Calcolate che una Panda costa 11 mila euro. No, ma i tuoi, Marco, sono dei prezzi straordinari, macchine straordinarie. Abbiamo presentato una macchina con 247 chilometri, o 11 mila chilometri, insomma, davvero pochissimi. Cosa ne pensi degli eco-incentivi? Perché qui una macchina come questa, insomma... Vorrei spendere due parole per questi eco-incentivi, perché adesso, come tutte le cose, si sentono al bar, si sentono in televisione, uno si blocca. Infatti il mercato è da due giorni che è bloccato, perché nessuno sta capendo niente di questo eco-incentivo. Sono 1500 euro che forse danno, non su tutte le macchine, ma su quella macchina che ha certe caratteristiche. Anche il cliente stesso deve avere certe caratteristiche. Non fidatevi più di nessuno. Venite qua da noi, che abbiamo macchine aziendali, veramente con dei prezzi strepitosi, con finanziamenti, con un'officina che, ripeto, con tutti i comfort, diciamo. Abbiamo tutte le varie soluzioni, affitti lungo termine, possiamo affittare macchine e tutto, ma l'eco-incentivo di 1500 euro, qua lo stiamo facendo da 20 anni. Quindi non aspettate che vi dicano vai là a comprare la macchina con 1500 euro, quando ne facciamo magari 5000 euro di sconto. Su certe macchine. Giulia, rossa che ho venduto praticamente l'altro giorno, costava 50.000 euro, il cliente l'ha portata a casa con 33.000 euro. Allora, più eco-incentivi di così, ma 1500 euro di mani, insomma, non aspettate, venite qui a scegliere la vostra vettura. Cioè, veramente, perché sono tutte quelle cose che fanno per bloccare, far andare avanti il lavoro. Venite che qua uscite con la macchina, non preoccupatevi. Marco, io lo so che tu ami tutte le tue creature, una per una che sono esposte qui, ma per le Alfa Romeo il tuo cuore batte a mille. Tu guarda che quadro, vedi? Vendute, non vendute. Opere d'arte. Guarda che qua io avevo preparato 14 o 15 Giulia, sono rimaste solo queste e adesso arrivano delle altre. Alla faccia dell'eco-incentivo che tirano in giro la gente e basta. Per farti capire, quelle macchine qua sono tutte vetture preparate da noi, sono tutte, scusate, sono tutte vetture con garanzia ufficiale, praticamente, della nostra e casa madre. Per farti capire l'eco-incentivo, volevo arrivare a questo. Quella vettura qua, che è una vettura del 2017, con pochissimi chilometri, nonostante a guardare l'eco-incentivo di 1.500 euro. Costa 40.000 euro nuova, io ve la do 19,9 per il passaggio. Quindi a 21.000 euro io ve la do finita di tutto. È davvero splendida, splendida, come nuova. E poi, ripeto, posso aggiungere due cose, Rosy? Sì. Come dico sempre nelle trasmissioni, non guardate cosa costa la macchina, guardate la rata. Se il vostro stipendio con la rata è compatibile, da lì si può comprare quello che si vuole. Certo. Venite presso i nostri uffici, ci sediamo, facciamo tutti i calcoli giusti e vedrete che uscite dal cancello con la macchina, lo dico sempre, qua si esce con la vettura. Rosy? Stavamo parlando prima, perché a me sembra incredibile quello che vi racconterà lui sul prezzo di questa vettura. Allora, io non voglio essere ripetitivo, ma 1.500 euro di e-incentivo, come potete vedere, la vettura costa 69.150. Io vi do questa vettura qua a 57.500 euro, più i pt, 59.000 circa. Nuova, eh? Dai matricolare. Allora, 1.500 euro. Fatevi un po' i conti. Steviotti. Rosy, questa ti presento la chicca del mese. L'ultima, Giulietta, 1.620 cavalli, chilometro zero super, sensori davanti, sensori dietro, piena di optional, vettura da 30.000 euro quasi di listino. Io ve la do, 18.900 euro compreso il passaggio. Alla faccia dell'e-incentivo. Altro che 1.500 di sconto. Marco, e tutti questi furgoni una sorpresa anche questa? È uno stock di talento, talento trasporto persone. Vettura che aziendale del 2017 la vendiamo, per farti capire, a 17.9, 18.5. Questi li vendiamo a 19.9 più il passaggio, quindi sui 20.6, 20.7, nuovi chilometro zero del 2020. Attenzione, l'unico inconveniente è che non hanno il climatizzatore, però sinceramente a me declimatizzatore. Allora Marco, ti dico la cosa, io lo uso pochissimo perché quando metto il climatizzatore mi va via la voce, siccome io ci devo sempre parlare con la voce, con voi, clienti, non lo uso. Quindi un'offerta davvero straordinaria, avete sentito bene il prezzo? 20.500 euro finale compreso il passaggio. Perfetto. Marco, questo è un esemplare unico. È un fullback, uno dei pochissimi, penso, rimasti, 30 o 34 mila chilometri, vettura, baria nuovo, ha due o tre stupidate da fare di carrozzeria, veramente, con tutte le garanzie di questo mondo, trattativa, riservate in ufficio. Questo è un gioiello, l'ho scaricata stamattina dalla Bisarca, perché non so ancora il prezzo, lo stiamo ancora organizzando perché sai, con le ferie e non ferie, quello che fa il prezzo è via un attimo. se chiamate nei prossimi giorni possiamo dirvi tutto. Doppio tetto apribile e la Trelok Renegade veramente stupenda e di un colore meraviglioso. Assolutamente sì, rossa con particolari neri. E qui, guardate un po', che assortimento. uno stock di tipo, che sono tutti in preparazione per la carrozzeria, di lucidature, tutte quelle cose, vetture che partono dagli 11 ai 15 mila euro, ripeto, 11-15 mila euro, veramente, avete in mano una macchina per famiglia, ottima, e secondo me, la tipo, vedendo le vendite che stiamo facendo, ma veramente tante, il cliente è molto soddisfatto. Assolutamente sì, come vedete, diverse versioni, le station wagon, piuttosto che le 5 porte, diversi colori, diversi allestimenti, insomma, se cercate una tipo a questo prezzo straordinario, venite qui da Baccanelli. Ed ora Marco, siamo usciti all'esterno, come avevi detto prima, c'è veramente una varietà incredibile. Stock di Y, vari colori, blu lancia, nere, bianche, grigio chiare metallizzate, e di qua abbiamo tutta questa vasta scelta di Panda, tutte e due le versioni, Y e Panda, per neopatentati, 1.269 cavalli benzina. Perfetto, quindi per i vostri ragazzi, per i neopatentati, una scelta ampissima, non solo per loro, ma anche per voi. Comunque sappiate che ci sono davvero un'infinità di colori e di allestimenti da scegliere. Finanziamenti personalizzati, finanziamenti con tassi agevolati, furti, incendio, e varie assicurazioni all'interno della rata, venite da noi, che vi spieghiamo tutto. Cosa dice di questa macchina, Rosy? È molto particolare, ed era molto richiesta quando è uscita. Ed è rossa. Rosso è un colore più bello che c'è. Asciutto, 103.000 chilometri, ma non vuol dire, perché quando le macchine sono tenute bene, io le rivendo, con i suoi tagliandi, le sue garanzie e quant'altro. Del 2015, Kia Soul, ha solo 9.900 euro più il passaggio. Prezzo ottimo, e colore che porta fortuna. Sempre Kia, Marco, questa volta bianca. Bianca porta fortuna anche lei. Kia Sportage, che è molto gettonata. 18.500 euro più il passaggio anno 2016. Bene, Marco, prima di proseguire, di concludere la trasmissione, volevo, tu ci hai presentato, come sempre, una serie di vetture davvero straordinarie per prezzi, per condizioni, abbiamo parlato di eco-incentivi. Naturalmente, è solo una piccola parte di quello che potrete trovare, perché se andate a visitare il sito, trovate veramente un'infinità di occasioni per voi. Ma come vanno le vendite dopo il Covid? Visto che comunque tutti ne parlano. Guarda, quando c'è stato il Covid, nel periodo di marzo e aprile, ero spaventato. Ecco, venivo qua, era tutto vuoto, sentivo il rumore del silenzio, che quando senti il rumore del silenzio, guarda che è veramente brutto. Abbiamo aperto subito il 4 di maggio, e da lì, subito, parecchie vendite. Non ci siamo ancora fermati, grazie a Dio. E voglio ringraziare, ma non sto scherzando, tutti voi, perché non è normale che il cliente venga dai soldi, prende la macchina e va via. Grazie all'affetto, grazie a tutto quello che avete fatto per noi, perché se si costruiscono certe concessionarie, certi posti, è grazie anche al cliente, anzi, soprattutto è grazie al cliente, perché ha fiducia in noi. Noi, ripeto, cerchiamo di fare tutto il possibile per lavorare bene. Se sbagliamo, chiediamo scusa, perché chi non sbaglia vuol dire che non lavora. No, infatti. Quindi c'è una bella complicità tra noi e il cliente. Voglio prendere questa occasione per fare buone vacanze a tutti e andiamo avanti così. Voi venite a trovarci, noi cerchiamo di fare il possibile per farvi andare via con la macchina nel migliore modo possibile. Abbiamo un'ufficina, ripeto, a un chilometro da qua che è rifornita di tutto. Chiamateci, venite a provare le nostre macchine, specialmente l'Alfa Romeo, che oggi l'Alfa Romeo è una vettura stupenda, veramente una vettura da comprare, perché vediamo che i clienti diventano mati. Quindi vi saluto e grazie. Marco, scusami, prima di salutare, ancora una cosa. Mi sono emozionato. Sì, bravo. Infatti, hai fatto emozionare anche a me. Volevo sottolineare questo. Quello che tu racconti, e cioè della fiducia che vi danno i clienti, è una cosa che io quando entro qua dentro sento e sicuramente sentiranno anche tutti i clienti. C'è questa atmosfera che è familiare. cioè io vedo che la gente quando entra sono magari vecchi clienti o sono anche nuovi clienti, vengono accolti, c'è sempre un sorriso, c'è sempre un modo di trattarli che è veramente molto familiare, per cui si sente questa atmosfera. Quindi qua con voi naturalmente per darvi il massimo, per cui scegliete la vostra vettura presso Baccanelli e non ve ne pentirete sicuramente. dirlo alla luna può darsi che porti fortuna maledetta sfortuna guardami in faccia la realtà. Adesso basta. No, sei troppo bravo.